Musica Musica Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession E' lo scenario che non t'aspettavi Mike Myers, Sierra Banks, 3MZ Dennis Collection Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession Questa merda fatta dalle mie rasici Tu che dici? Amici tossici, vanno le bici Si fanno dare in culo pena dose Tremi tutto overdose Metadone, finte cure miracolose Quando non batti il chiodo Ma il chiodo che ti batte è sangue nero Stavolta non mi stacco per davvero Vado sempre dito, butto giusta strofa Iena, Ben, Snake, Mike, Elsa, 200 all'ora Carni fresche, congelata al mattatoio Un pompino con l'inguglio Senza scontro, lascia per le luce svolte David Knight, per la vita, per la gente Eppure per Cristo, Dio, non impotenti Il risultato è scontato Piove sul bagnato, cadi ciboli, cili mani La vita bella vissuta da carni David Knight è il mio gruppo David Knight è la mia gente Non c'avevo un cazzo, la perdi È lo scenario che non t'aspettavi Mike Myers era best, 3 MC Dennis Connection Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession È lo scenario che non t'aspettavi Mike Myers era best, 3 MC Dennis Connection Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession Stavoce come dinamite Non vengo in pace, fatti il segno della dolce Sarà vu per vendetta atroce Parlo spesso con me stesso face to face Con la mia parte, quella mostruosa come in basket case E tu che giudichi i miei passi fatti sulla strada Stai bene così ma poi che cazzo te ne frega Qual è il problema? Non seguo il tuo schema So solo che sto in compagnia di chi surpitte e telesona Guardali belli truccati sullo schermo Non amavanti senza trucchi e dura dal buongiorno A chi lotta, a chi sbrocca e dice basta regalamo rime È il regolare se con gente di arte e cori Fermato per la barba ed un cappello in testa Guardato storto manco fossi un terrorista Io faccio solo in modo che il mio rap ti colpisca Non come le stronzate che sentimo da destra a sinistra È lo scenario che non t'aspettavi Mike Myers era best, 3 MC Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession È lo scenario che non t'aspettavi Mike Myers era best, 3 MC Se te pensavi che sta roba era fashion Chiamo un esorcista perché è The Last Possession Grazie a tutti Grazie a tutti